Non voglio fare polemiche, c'è una grande differenza morale, istituzionale, politica e di amore, perché noi stiamo facendo una iniziativa in difesa della città, di tutti i napoletani e perché questa difesa evita ricadute tragiche su tutti i napoletani, anche su quelli che possono non sopportarmi per nulla, che non mi hanno votato e non mi voteranno mai. Loro invece per un becero interesse particolare pensano ad altro, quindi veramente non mi interessa fare, avere tante cose da dire, ma davvero tante, ma invece oggi come sempre il nostro interesse è solo uno, è Napoli, i napoletani, i diritti, i bisogni, la lotta contro il debito ingiusto e ho sempre detto che chi non condivide questa battaglia è in malafede, è in totale malafede, perché le carte, i documenti, gli atti e la giustizia di questa lotta stanno tutte dalla parte, non del sindaco, dalla parte della città e dei napoletani. In questa battaglia, al di là della manifestazione, ci si divide chi sta con Napoli, chi sta con i napoletani, chi sta per i diritti e nella lotta per la giustizia e chi sta invece a perseguire solamente interessi particolari, questo non è tanto il PD e De Magistri, solo la destra e altre forze politiche, questo è il tema.